Atri è un paese abruzzese che, seppur piccolo, sa stupire chi lo visita. Girando per il paese si trovano diverse chiese imponenti per un paesino che è veramente piccolo e, girando per le sue strade, si respira la tipica aria della vita di paese. A presto! Dopo aver visitato il paese è d'obbligo una tappa alla riserva naturale dei calanchi di Atri. Si tratta di un posto che non può non rimanere impresso nella mente per la sua bellezza.